Le macchine di Le Mans a volte lo facevano questo, prendevano agli al sotto e si capotavano e sembrava un po' questa... Allora, Guaglio Joe è lì, adesso affiancato a Russell, c'è un primo... Ah, Russell viene toccato... Però il nuovo che si capota qua... E' Gasly, Gasly... Uuuuh, che infortuna... Mamma mia, mamma mia... Fortuna al pubblico... Mamma mia... Si affianca Gasly... Cazunoda, Cazunoda... No, Gasly... Si vuole infilare tra le due macchine Che poi Russell viene preso dentro e Russell prende Guaglio Mamma mia, mamma mia, mamma mia...